carissimi amici e amiche bentornati al ciclo di catechesi dedicato al peccato originale origine di ogni male siamo giunti alla puntata numero 28 in cui vorrei se fosse possibile ecco terminare la parentesi dedicata alla presentazione di questo del testo del sacerdote don guido bortoluzzi dedicando ancora qualche parola per tentare semplicemente una comparazione sinottica quindi tra il dato genesiaco quindi quello che appare dal testo biblico quello che abbiamo visto tra gli scritti di maria valtorta e quello che appare da genesi biblica di questo confratello per chiudere un pochino il discorso dopo di che evidentemente ognuno è libero di farsi una propria idea personale e io devo ripetere devo tra l'altro anche con dolore confessare io mi trovo estremamente in imbarazzo a dover parlare di questi argomenti perché don guido bortoluzzi è un mio confratello nel sacerdozio quindi in quanto tale è mio signore ed è persona di cui ho la massima stima possibile immaginabile da quello che si sa pare che fosse anche un sant'uomo e non solo ha previsto per esempio la strage come si chiama del bayon in in nord italia per cui io sono semplicemente in difficoltà perché mi trovo come dire da un lato davvero una stima grande della persona in quanto sacerdote perché sacerdote ma anche in quanto perché quello che si sa sembra che fosse un santo sacerdote tuttavia come ho già fatto emergere la volta scorsa la mia coscienza attenzione che ha letto gli scritti non è che io la volta scorsa ho utilizzato un testo di l'andolina semplicemente per scrivere per perché condivido alcune notazioni critiche fatte da da questo studioso gli scritti paltortiani ma non perché io abbia conosciuto gli scritti di don guido attraverso lui quindi che evidentemente essendo un critico ha già una visione come dire che critica ma perché li condividi ho detto la volta scorsa che quando ho letto queste cose sono saltato sulla sedia nel senso che ho colto delle discrepanze che rimangono a mio avviso che cercherò di far vedere anche questa sera oggettive sia con il dato biblico sia con gli scritti di maria valtorta e per cui io mi trovo in questa situazione proprio infelice cioè non vorrei mai dover andare contro dire un mio confratello e non intendo farlo io spero tanto che tra qualche anno mi abbia qualche illuminazione qualche altra cosa per cui devo fare un altro video dove dico guardate quello che ho detto qualche anno fa su genesi biblico è tutto sbagliato aveva visto bene c'era perfettamente ragione questa sarebbe per me la notizia più bella che potrebbe capitare però al momento allo stato attuale quindi senza voler assolutamente dare giudizi definitivi né tantomeno di condanna né tantomeno esprimere come dire ripeto rilevi critici verso un confratello che io non faccio mai non mi piace fare queste cose qui esterno semplicemente delle difficoltà che emergono le presento anche dinanzi al signore non vorrei mai trovarmi dinanzi al signore che mi vivesse a dire oi che hai fatto io a questo tuo confratello gli avevo parlato e tu gli sei andato contro spero che non me lo dica perché io sono apertissimo a eventuali come dire correzioni però ci sono una serie di difficoltà che allo stato attuale mi appaiono del tutto insormontabili anche qualcun altro oltre quella che è emersa la volta scorsa ecco per cui invito anche perché poi insomma immaginavo che il video della settimana scorsa avesse qualche qualche eco grazie a tutti quanti i commenti in ciascuna delle mie piattaforme social sono sono moderati no i toni vanno sempre tenuti bassi ecco sia da un versante che dall'altro nel senso non dimentichiamo mai ripeto questo è un confratello questo è un sacerdote quindi non bisogna mai a mio avviso come dire esagerare nei 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 toni anche se qualcuno non ne condividesse il contenuto insomma no e rimanere sempre non non mettere mai la parola fine io ho imparato ecco nelle cose dell'altissimo che bisogna sempre rimanere umidi perché se ci fosse qualche cosa che il signore volesse farci capire e che magari non è stato chiaro ad una prima lettura noi dobbiamo sempre dargli la possibilità e poi c'è anche un altro aspetto che i misteri dell'altissimo sono sempre dei grandissimi misteri noi non possiamo capire perfetto anzi non capiamo quasi niente di quello che dio fa ecco per cui i nostri rilievi i nostri ragionamenti le nostre considerazioni devono essere sempre questo l'ho imparato e mi intendo a tenermi molto cauti sempre anche se evidentemente abbiamo la possibilità spesso il diritto talora anche il dovere di esternare quello che al momento la nostra percezione ci dice io ci sono delle riserve alcune sono di coscienza altre che sono di tipo intellettuali che sono inevitabili dinanzi allo stato attuale per andare un pochino di ordine andiamo a riprendere tutti e tre questi questi frangenti poi facciamo un'analisi comparata e dirò anche di nuovo quali sono le aporie che mi sembrano al momento insolubili allora è chiaro che il racconto della genesi il libro della genesi esprime dei fatti realmente avvenuti all'inizio dell'umanità in termini evidentemente che sono da comprendere non vanno presi come dire alla lettera 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 già i sette giorni della creazione dell'universo è molto difficile che siano stati d'accordo i sette giorni in un due tre quattro cinque sei sette questo tra l'altro quindi presumibilmente quel sette è il numero perfetto quindi sta dicendo attraverso quel numero che l'universo è un'opera perfetta però dobbiamo fare sempre attenzione che nella sacra scrittura bisogna sempre salvaguardare il senso letterale anche se non cadere nel letteralismo sillabesco come quando durante la presa di Ai c'è scritto nel libro di Giosuè fermati o sole è successo il finimondo col caso Galileo è chiaro che bisogna anche pensare che ad un uomo che è vissuto a quei tempi cioè Dio non gli può dire fermati terra perché tutti quanti pensavano che si muovesse il sole non la terra quindi c'è questa anche dimensione negli scritti biblici nel senso che il nostro Signore si adatta al grado culturale e storico della coscienza di un certo periodo se Giosuè avesse scritto fermati o terra cioè qual è però il senso letterale? il senso letterale è che quel giorno è durato più a lungo di quanto doveva durare perché il Signore doveva concedere a Israele di distruggere e di sterminare tutti quanti i nemici e se fosse venuto la notte questo sarebbe stato possibile quindi con queste premesse però il senso letterale però va salvaguardato uno stravolgimento del senso letterale quindi che proprio tu dici non ci sarei mai arrivato che sulla base di questo senso letterale ci fosse questa cosa qui appare eccessivo e stridente anche non soltanto con quello che penso io perché la cura del senso letterale è stata da sempre custodita nella tradizione teologica fino ai tempi dei padri anche da parte di quelli che magari indulgevano a interpretazioni allegoriche specialmente durante l'età patristica ma sempre salvaguardando il senso letterale cioè il senso allegorico c'è ma il senso letterale rimane è come per esempio i miracoli evangelici i miracoli evangelici Gesù li ha compiuti non è che sono racconti simbolici li ha compiuti però il significato del miracolo va oltre perché che lo leggiamo a fare oggi noi che Gesù ha guarito un cieco semplicemente come argomento apologetico vabbè ha fatto un miracolo ha guarito il cieco e quindi Gesù è Dio tutto qui? Non è tutto qui perché la guarigione del cieco ha anche certamente una significazione che va oltre perché non c'è soltanto la cecità del corpo ma anche dell'anima e quindi basta già vedere le catechesi dei primi secoli durante il catecumenato battesimale quante catechesi c'erano sul cieco sul cieco nato che è immagine del pagano che deve essere illuminato da Cristo e attraverso quel gesto e il fango attenzione che glielo mette sull'occhio quindi fa una nuova creazione perché come Dio ha plasmato l'uomo dal fango così mettendo il fango gli apre gli occhi sta facendo una nuova creazione quindi ti mette nella morte e risurrezione di Gesù Cristo attraverso il battesimo che ti dà luce quindi queste cose sono sempre state d'accordo? ma sempre sulla base del senso letterale allora cosa viene descritto? allora, numero uno che l'uomo è il vertice della creazione ed è il capolavoro dell'Altissimo interviene alla Santissima Trinità facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza eccetera eccetera si dice che Dio ha creato l'uomo dal nulla plasmandolo dal fango tra l'altro è un particolare molto significativo terra e acqua e guardate che la nostra composizione biologica è acqua come tutti quanti sappiamo per una larga percentuale e per il resto è materiale più o meno riconducibile alla terra, l'argilla ma l'argilla è acqua mista è terra mista d'acqua così crea l'uomo in una condizione perfetta lo mette in un giardino lo mette nell'Eden dalla costola dell'uomo durante il suo sonno trae la donna una vera donna come lui promettendogli che istituendo il matrimonio nello stato di giustizia originale facendo riferimento al crescere e moltiplicarsi all'essere una carne sola ma una carne in senso ampio perché non è il termine ebraico non è un corpo solo nella materialità ma una unità di corpo, anima e spirito d'accordo certamente e coinvolgente anche in qualche modo la corporeità ecco in stato di natura integra erano nudi ma non ne provavano vergogna d'accordo Dio decise di provare l'uomo mettendogli un limite con questo albero della conoscenza del bene e del male la Genesi narra che la donna è stata tentata dal serpente e dietro del serpente tutta la tradizione è cattolica c'ha visto il diavolo attraverso un dialogo un processo che gli ha attivato una serie di reazioni evidenti dal racconto biblico la superbia diventare come Dio il desiderio di conoscere ciò che era proibito non morirete affatto e una trasgressione quindi la scelta di disobbedire a quello che Dio gli aveva chiesto e infine la consumazione il mangiare del frutto soproibito che poi fu portato dalla donna all'uomo chiaro? questo è questo è quanto dice il libro della Genesi d'accordo? conseguenza di questo succede il finimondo quindi i castighi che Dio commina alla coppia peccatrice ultimo la cacciata dal paradiso terrestre la morte la sofferenza il disordine nei rapporti relazionali il disordine nei rapporti col creato il lavoro faticoso i dolori del parto la soggezione disordinata della donna all'uomo l'istinto che la donna prova verso l'uomo ma il tentativo di dominio dell'uomo verso la donna tutte le cose si leggono in Genesi 3 e dopodiché al quarto capitolo la nascita di Caino e Abele come figli di Adamo e Deva che si sono uniti dopodiché più avanti il famoso passaggio di Genesi 6 che abbiamo visto misteriosamente queste unioni tra i figli di Dio i figli degli uomini i giganti la progressiva corruzione dell'umanità il diluvio universale come risposta di Dio come freno come impedimento di una totale degenerazione della razza umana preservando Noè con sua moglie i tre figli e le mogli dei tre figli e le coppie degli animali e delle specie essenziali del genere umano questo è un racconto sintetico del tipo dello genere attenzione dopo la caduta originale c'è anche un altro molto molto importante c'è il cosiddetto protovangelo io porrò in nemicizia tra te e la donna al serpente tra la tua stirpa e la sua stirpa e questa ti schiaccerà la testa e tu le insiderai il calcagno questo è quanto in sintesi mi sembra che appaia dal racconto biblico abbiamo già visto quindi che sulla base del racconto biblico la Chiesa ha elaborato la sua dottrina sul peccato originale d'accordo non scendendo nel merito che è quello che stiamo cercando di fare adesso di che cosa sia successo d'accordo qualificando certamente il peccato originale nei termini del catechismo quindi disobbedienza di superbia e di trasgressione quindi chiaro? affermando che questo ha coinvolto tutto il genere umano affermando che il peccato originale si trasmette per generazione e peraltro in ordine alla particolare ipotesi considerata sulla base anzitutto dei riscritti dei padri abbiamo visto anche quello che la Chiesa insegna sul sacramento del matrimonio e sull'uso secondo la volontà di Dio della sessualità d'accordo? quindi questo è patrimonio indisponibile nel senso che se si vuole rimanere cattolici dentro questo alveo bisogna rimanere allora il racconto le rivelazioni di Maria Valtorta con tutto quello che abbiamo visto a mio modestissimo parere appaiono perfettamente compatibili che l'uomo sia stato plasmato dal fang e dal nulla viene affermato che la donna sia una vera donna e che sia stata tratta dalla costola di Adamo viene affermato viene affermato che la donna sia stata tentata dal serpente cioè dal diavolo viene affermato cosa viene specificato entro certi limiti entro certi limiti il contenuto possibile del peccato originale l'albero della conoscenza del bene e del male sappiamo che dagli scritti di Maria Valtorta viene qualificato come albero vero quindi come un albero salvaguardando il senso tra l'altro letterale del testo attenzione però l'albero non da cui pende il pomo la favoletta del pomo quindi la mela mangiata che sta nel nel marchio che ha scelto la Apple d'accordo provocatoriamente ma la favoletta del pomo è un pochino poco quindi c'è un approccio che spiega come il contenuto cioè ciò che Dio non voleva che fosse conosciuto dalla razza umana era il mistero della generazione che sarebbe avvenuto attraverso questo cito di nuovo un passo della delle lezioni lettere romane l'abbiamo probabilmente già visto la carne la generazione sarebbe avvenuta in questo modo santamente come Dio voleva e come l'uomo innocente aveva compreso nell'Eden facendosi una carne sola ok misteriosamente Dio dice non violate il segreto della vita il serpente che Eva trova dall'albero non si doveva andare vicino all'albero della conoscenza del bene del male perché lì è cominciata la trasgressione comincia un discorso seducente che alla fine la fa arrivare a che cosa conoscerete diventerete come Dio conoscendo il bene e il male creare da soli diventare creatori si capisce d'accordo e anzi si afferma nel libro della Genesi che non bastò ad Eva di darsi soddisfazione da sola ma che poi portò il tutto ad Adamo abbiamo già visto questo che cosa potrebbe significare in ogni caso il termine ultimo del peccato originale che cos'è è farsi generatori da soli quindi gli animali fanno questo lo facciamo pure noi e ci facciamo i figli da soli violando in questo senso il mistero con cui Dio avrebbe voluto salvaguardare la generazione cosa sarebbe stato non c'è dato di sapere dagli scritti di Maria Valtorto tutto questo abbiamo visto non soltanto conferma una coerenza con il dato biblico ma anche molti punti di contatto con ciò che il pensiero teologico dei padri aveva intuito su questo fin dai tempi antichi perché per questo la prima parte del nostro discorso è stato fatto in questa direzione per esempio la condizione di verginità primordiale pensata per la razza umana e che non c'è più ma che sarebbe dovuta rimanere questo negli scritti di Maria Valtorta è perfettamente affermato perfettamente tanto per dirne soltanto una abbiamo visto che tutti quanti che quasi tutti i padri della chiesa affermavano che il senso la libidine non sarebbe potuto entrare se la relazione tra la coppia d'Ama ed Eva sempre strutturata e pensata alla maniera biblica cioè Adamo come primo uomo e Eva come sua compagna umana da lui generata da Dio ok e per quanto riguarda il problema scientifico del ritrovamento dei fossili abbiamo visto come negli scritti di Maria Valtorta Gesù propone una lettura particolare di Genesi 6 affermando che l'ibridazione del genere umano da cui derivano fossili ominidi e scimmioni sia derivato dalla perversione piena di Caino compiutasi nel gesto orribile del fratricidio per mezzo del quale al primo peccato fatto da Adamo e Eva cioè disobbedire a Dio quindi mancare all'amore verso Dio si è aggiunta la pienezza della trasgressione all'amore verso il prossimo con una imbastardimento e un pervertimento di Caino attenzione Caino figlio di Adamo ed Eva come Abele uomo nella sua provenienza puro inizia da lui il processo di imbastardimento di degradamento del genere umano fino alla produzione degli ibridi mezzi uomini e mezze scimmie questo processo stava degenerando coinvolgendo anche i discendenti di Seth quindi quelli che avevano conservato una diciamo così razza pura degli esseri umani e cominciavano già a starci queste prime forme di unione allusione dei primi versetti di Genesi 6 quando il Signore capisce quando c'era il pericolo grave che questa cosa andasse degenerando e per cui la razza umana si sarebbe irremediabilmente contaminata e pervertita nostro Signore ha detto stop andiamo il diruvio e ci mettiamo punto salviamo quella parte dell'umanità che è rimasta pura quindi che può vantare diciamo così la discendenza diretta da Adamo e il resto ci mettiamo punto il diruvio universale questo è quanto risulta dagli scritti di Maria Valtorta che appare uno può anche non crederci ma non può fermare almeno per quanto mi riguarda la mia coscienza non lo afferma ecco perché io non ho mai avuto delle grosse difficoltà con gli scritti di Maria Valtorta io ci tengo a dire io sono sacerdote fedelissimo almeno fedelissimo non so se riesco ad esserlo sul piano di fatto ma quantomeno nelle intenzioni e con tutto quanto il mio sforzo possibile a ciò che la Chiesa insegna e al suo magistero se io avverto che una cosa gli va contro io vado contro mi accordo Dio mi è testimone io chiamo Dio a coscienza a testimone di questo per cui leggendo tutte quante queste cose non solo che la mia coscienza non ha avuto nessun tipo di sussulto ma ne è rimasta e dico ma tu guarda un po' tu guarda un po' se questo fosse vero se questa ricostruzione dettagliata fosse verosimile ti si vanno a risolvere una montagna di problemi primo fra tutti per quanto mi riguarda come mai sulla sfera sessuale la morale della Chiesa che oggi si cerchi in qualche modo di abbassarla ma questa è proprio una cosa che non c'è mai stata è sempre stata di una rigidità impressionante impressionante e la Madonna Fatima ha detto che i peccati che portano più anima all'inferno sono i peccati della carne e tutto quanto l'ambiente del satanismo e uno si vada a documentare se non lo conosce ruota intorno al sesso se questo fosse vero capite cioè per quanto mi riguarda l'intuizione patristica che la verginità era lo stato pensato per la razza umana che che da pochissimi non fosse condivisa cioè dal secondo Sant'Agostino soltanto e poi da Sant'Omaso d'Aquino è un'idea molto verosimile perché perché si fonda su altri due asserti certi d'accordo noi dobbiamo stare sempre nell'ambito innanzitutto delle cose certe cioè che la Madonna è stata la semprevergine ma perché la Madonna doveva essere la semprevergine ma se non c'è niente di male nell'unione sessuata tra l'uomo e la donna ma perché la Madonna e San Giuseppe non hanno avuto rapporti oh siamo proprio e perché era Madonna proprio nei scritti di Maria Valtorta dice il Signore mi aveva illuminato sulla origine del male nel genere umano e quindi io fin da piccola ho fatto voto di verginità perché dovrebbe dire una cosa di questo genere cioè se non ci fosse niente di male se fosse stata una cosa prevista anche nello stato di natura integra ma perché no e perché il nostro Signore Gesù Cristo non si è sposato e perché anche il celibato ecclesiastico che oggi viene tanto attaccato perché ma no perché se un prete si sposa e poi deve stare presa la moglie o non deve stare presa la comunità sì questo è certamente ma questo è un argomento se uno ci pensa semplicemente funzionale dico vabbè sta la mia coscienza cioè se io sono un prete ci penserò io a dare le giuste priorità io lo spiego a mia moglie e dico guarda che se mi chiamo un malato che gli devo dare l'olio santo alle due di notte io ti devo lasciare a casa e se il bambino piange non fa niente ma io gli devo portare l'olio santo cioè non è l'argomento funzionale o anche il vescovo è sposato alla chiesa c'ha l'anello al dito e quindi non può sposarsi con un essere umano sì d'accordo ma a me a me personalmente non mi basta questo argomento diciamolo alla mia intelligenza tutto qui solo questo e allora nell'antico testamento i sacerdoti che prima di dover andare al culto dovevano astenersi dalle donne perché a Davide che gli diceva vorrei dei panni destinati ai sacerdoti ma vi siete astenuti dalle donne da tre giorni e perché e perché è il segno della circoncisione ad Abramo perché circoncidere il membro maschile di un uomo e perché le donne devono partorire soffrendo o ad essere umiliate in continuazione con il ciclo mestruale vissuto come lo vivono le donne insomma che a tutte quante le donne sono stato fidanzato poi insomma no cioè e raccontano insomma che è un'esperienza umiliante schibrutta insomma perché cioè ci sono tutta quanto una serie di aporie già pensare che la razza umana sarebbe stata destinata alla verginità cioè alla verginità attenzione non intesa lo vedremo nell'ultima parte quando parleremo con te quando faremo qualche cena non era non erano due statue cioè o che stavano nell'amore platonico che manco che manco si toccavano non era così eh non era così io personalmente lo dirò sono convintissimo che l'amore tra Dama e Deva era un amore profondo ed era un amore fisico non libidinoso però e il problema è che tra la Madonna e San Giuseppe questo non c'era sicuramente era un amore castissimo e un amore distante se ci sa se c'era qualche gesto era molto molto riservato forse qualche volta San Giuseppe le prendeva la mano perché perché dopo il peccato originale questa cosa sulla terra non c'è più è stata perduta e per cui non è più possibile vivere l'amore come lo vivevano Dama e Deva cosa che sarà possibile solamente in paradiso Teneramata ne parla di queste cose qui ma se non avessero fatto il peccato originale probabilmente questa idea mia personale molte delle cose che Teneramata descrive che fanno i beati tra di loro in cielo le avremmo vissute sulla terra adesso non si può non si può più perché c'è un qualche cosa che è stato perduto un'altra cosa molto importante teniamola presente che deriva dalla tradizione biblica è che Adamo Adamo ci sono anche i dipinti antichissimi Adamo secondo voi è stato all'inferno è stato dannato o è stato perdonato secondo la tradizione cattolica Adamo sta in paradiso non si può bestemmiare il nome di Adamo e Eva anche sono stati perdonati hanno fatto penitenza per tutta la vita ora gli iscritti di Maria Valtorta anche dicono che hanno fatto penitenza per tutta la vita se uno volesse ampliarlo ulteriormente chi mi conosce lo sa per esempio negli iscritti di Luisa Piccarreta Adamo viene certamente considerato un'anima che adesso sta in paradiso che non è andato a finire dannato Adamo non è dannato la Chiesa non ha mai pensato questo la tradizione della della Chiesa non c'è una festa dedicata a Santa Adamo ma Adamo non è dannato questo è qua allora torniamo alla Genesi Biblica di questo reverendo confratello che cosa succede? lo riprendiamo per me questi questi dati non possono essere come dire compatibili cerco di seguire un pochino l'ordine numero uno la creazione di Adamo Adamo non viene creato dal fango no Adamo viene creato con un gamete maschile e femminile inserito direttamente da Dio nel grembo di una cosiddetta ancestre cioè a metà tra l'uomo e la scimmia senza peli e bianca e a me già questo primo punto la mia coscienza attuale io dico allora è chiaro che chi può sondare i pensieri dell'altissimo o a chi si è manifestato nel suo disegno potrebbe essere così tutto può essere ma la mia testa si chiede dico ma ma che bisogno c'era che Dio prendesse una una scimmione io la chiamo così perché non so come chiamarla e facesse fecondare dentro sta scimmiona il primo uomo glielo facesse partorire e allattare ma questo è una cosa che nel libro della Genesi io sfido chiunque cioè chiunque abbia preso anche le posizioni di questo caro confratello dico ma fammi vedere in base a quale versetto tu puoi fare un'affermazione del genere cioè è una cosa completamente ok vabbè comunque Adamo fa questo dopodiché la Sacra Scrittura dice che è certo che è un passo misterioso ma che la donna è stata plasmata dalla costola di Adamo cosa si cioè letteralmente gliela ha tolta forse no ecco però in Genesi Biblica Eva secondo la Genesi Biblica viene è la figlia di Adamo nel senso che Dio prende stavolta un gamete stavolta di Adamo e un altro lo immette sempre nel grembo della scimmiona e fa nascere Eva e e quindi questa volta è se carne della mia carne quindi viene da me ma qui diciamo che c'è un mezzo fondamento biblico però certamente atipico in ogni caso questa Eva che nasce in questo modo non c'è niente a che fare col peccato originale che cosa succede che secondo quello che mi è dato di capire allora bastava semplicemente che Adamo aspettasse che la piccola Eva crescesse si unisse a lei esattamente come ci uniamo adesso e facesse figli con lei era andato tutto bene non sarebbe successo niente quindi anche a prescindere dalla unione con la scimmiona da cui sarebbe nato Caino adesso poi ci arriviamo secondo Genesi biblica lo stato di verginità non c'era per l'uomo cioè l'uomo pur se non avesse commesso il peccato originale non avrebbe ci sarebbe stata la riproduzione sessuata quindi tutto quello che i padri pensavano lo buttiamo a mare questo per me farebbe molta molta difficoltà e farebbe anche molta molta difficoltà andare a spiegare alle persone qual è il senso del sagramento del mare di moni punto interrogativo sto spiegando le mie difficoltà d'accordo non sto facendo giudizi in ogni caso che cosa succede che Adamo e qui c'è un fondamento per esempio come un padre della chiesa mi pare che fosse Clemente Alessandrino poi nel riassunto io andrò a studiare tutto e lo vediamo che diceva no il peccato originale è stato che hanno fatto prima del tempo una cosa che Dio avrebbe voluto fare dopo io vi confesso e quando lessi quella cosa dico allora c'era ragione Don Guido Bortoluzzi ma non è proprio così perché Don Guido Bortoluzzi scrive che praticamente cosa succede che questa scimmiona non si capisce se volontariamente o involontariamente seduce Adamo d'accordo e Adamo va con lei invece quella Eva era ancora una bambina quindi poteva andare con la bambina ecco perché doveva aspettare perché doveva aspettare che questa crescesse si bene ma non è che Adamo ha fatto quello che doveva fare prima del tempo con Eva ma l'ha fatto con la scimmiona la scimmiona che però sarebbe Eva attenzione riferimenti al diavolo al serpente io non non li vedo nasce Caino mezzo uomo e mezza scimmia da questo rapporto balordo e poi nasce invece Abele perché quando cresce la bambina che sarebbe la Eva biblica mentre quell'altra sarebbe la Eva biblica in quanto se seduttrice ce ne stanno due non 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 cioè io non non si fa si fa fatica anche no ecco perché Abele quando poi viene descritto il fratricidio aveva due anni e Caino era già grande perché Caino era stato fatto secondo genesi biblica in quel modo e quindi il peccato originale sarebbe semplicemente l'aver l'aver commesso l'aver compiuto l'unione sessuale anticipando i tempi previsti da Dio che la voleva soltanto con la bambina diventata adulta con la scimmiona ibridando il genere umano in maniera irreversibile da questa ibridazione non ci sarebbe stata via di uscita quindi nata quindi originariamente da Caino che poi l'avrebbe protratta per il genere umano intero questo in sintesi ora questo chiaramente poi renderebbe compatibile anche come dire tutto quanto al discorso che viene fatto sugli ominidi sui sulle varie cose come dire a livello genetico eccetera eccetera che hanno anche io so che anche alcune persone di scienza avrebbero approfondito queste cose allora io evidentemente dinanzi a questa narrazione ho delle insormontanze attenzione un'altra cosa molto importante che secondo genesi biblica Adamo sarebbe dannato non è salvo io dinanzi a tutte queste cose non ce n'è una dinanzi a cui sto sereno e tranquillo come ho già detto la volta scorsa numero uno dov'è il diavolo che il diavolo sia stato il tentatore del genere umano per poterci condurre alla rovina con lui è un punto fondamentale per la nostra fede secondo la responsabilità della donna è nulla è nulla è inutile che qualcuno scrive dice no ma quello che era Eva lo ha fatto l'ancestre e comunque lei l'ha sedotto e quindi qui c'è qualcosa ma quella non è un essere umano non è un essere umano il Gesù che negli scritti di Maria Valtorta dice condanna più 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 grave grava sulla donna per le sue responsabilità primarie nel peccato originale ma dove sta dov'è non c'è non c'è e ripeto come ho già detto la volta scorsa tutto quanto il discorso della redenzione salta ma salta per esempio anche un discorso per esempio spettacolare che faceva Sant'Anselmo d'Aosta grande insomma non mi ricordo se è solo Sant'Anselmo o se è già San Leone Magno comunque il discorso era questo qui come ci sono stati gli esseri umani nella razza umana allora prima di Cristo allora l'uomo Dio l'aveva creato da solo quindi senza concorso umano e già qui se comincia a parlare di gameti e di ancestre sto discorso zoppica un po' scricchiona un po' la donna era stata tratta dall'uomo tutti gli altri esseri umani erano venuti dall'uomo e dalla donna cosa mancava? mancava che un uomo venisse da una donna ma questo è successo con l'incarnazione o no? come Adamo come Eva che sarebbe diventata la peccatrice fu tratta da Adamo quindi non è venuta da sola ma è stata è uscita da Adamo in un certo modo così Cristo è uscito in un certo modo virginalmente tra l'altro da Maria non soltanto decade questo discorso fondamentalissimo ho detto la volta scorsa se e quando la Madonna se per me non c'è perché il se secondo me non c'è perché è sicuro che ci sarà ma quando la Madonna sarà riconosciuta corredentrice il Papa che dovrà scrivere questo dogma perché lo scriverà non potrà non appoggiarlo principalmente sulla dottrina patristica del Adamo Eva Nuova Adamo e Nuova Eva ma anche tutti quanti i dolori che ha sofferto la Madonna ma scusate no ma che ci stava a fare la Madonna sotto la croce non si cioè se la bambina non ha fatto niente Eva e non ha fatto niente e se qualcosa l'ha fatto ma che cosa può aver fatto una ancestre pur essendo di genere femminile ma tutti quanti i dolori della Madonna dovuti subire per noi d'accordo perché era giusto cioè perché la redenzione è stata concepita da Dio come un atto estremamente giusto come spiega benissimo Sant'Anselmo nel Curo Deus una riparazione un ribaltamento questo negli scritti di Maria Valtorta emerge in maniera perfettissima la Madonna lo spiega io sono stato il rovesciamento di Eva ma dove sta Eva da rovesciare in questo racconto io ripeto dico queste cose con tanto dolore perché questo è un confratello è pure un santo confratello che ha scritto queste cose però queste queste sono insormontabili per quanto mi riguarda io vorrei dargli tutto il credito possibile ma sono insormontabili Adamo dannato Adamo dannato cioè certamente non è un dogma di fede che io sappia la beatitudine di Adamo ma è basta leggere gli scritti dei padri Gesù che scende negli inferi tende la mano ad Adamo c'è un sacco che dice Adamo vieni adesso hai spiegato abbastanza vieni con me ma se Adamo sta all'inferno questa cosa qui cioè capiamo c'è un altro problema grande lo stravolgimento completamente del senso letterale della Genesi non c'è più cioè qui non c'è una rivelazione privata che stravolga completamente un dato biblico va bene tu dici se la Bibbia sarà scritta come la tradizione narra Mosè il libro della Genesi figuriamoci adesso gli esegeti contestano questa cosa gli esegeti contemporanei quindi l'attribuzione del Pentateuco a Mosè non ci crede più nessuno oggi io personalmente più di qualche riserva più di qualche riserva continuo ad averla perché personalmente all'esegesi razionalistica contemporanea io personalmente nei confronti di essa nutro moltissime riserve moltissime per quanto anche lì molte argomentazioni appaiano scientificamente fondate ma io in coscienza ho moltissime cose la tendenza a ridurre molti racconti biblici a mito è tipica dell'esegesi razionalistica contemporanea sapeste quanta gente che mi scrive dice io ho sentito alla lezione d'ideologia che il Mar Rosso non si è aperto che Abramo non è esistito che il libro di Giona è una favoletta che Giobbe lo stesso è una favoletta queste sono come dire posizioni spinte di certe esegesi razionalistica contemporanea che vanno contro però un elemento sempre presente nella tradizione cattolica che è il senso letterale della Bibbia cioè tu prima di dire questa cosa ha valore meramente simbolico calma perché anche i passi apocalittici quali Daniele l'apocalisse stessa hanno valore meramente simbolico io non credo cioè si riferiscono a fatti che dovranno accadere nel corso della storia umana il problema è che è impossibile capirli prima ma non sono meramente cioè il meramente proprio simbolico simbolico allo stato puro è la Bibbia il cantico dei cantici il cantico dei cantici descrive se volete sapere come era come era prima del peccato originale e come però è stato tra Cristo e Maria e come è tra Cristo e la Chiesa quindi simbolico pure quello che insomma ha dei passaggi abbastanza intraprendenti quindi la responsabilità della donna nel peccato originale è completamente stravolta la morale sessuale diciamo così della Chiesa rimane punto interrogativo il genere umano appare fondata dentro questa ricostruzione anche se sotto punti di vista differenti la discendenza dell'uomo dalla scimmia appare fondata perché se il genere umano era irrimediabilmente ibridato e poi quindi c'è stata semplicemente una evoluzione successiva appare confermata in parte almeno la teoria dell'evoluzione che questo io personalmente mi si mi si mi si mi si gela un pochino il sangue quindi che dire le aporie ci stanno quindi Maria Valtorta non è questo perché abbiamo già visto la volta scorsa in Maria Valtorta c'è l'ibridazione della razza umana ma c'è anche lo sterminio della razza umana ibridata negli scritti di Don Guido no perché la moglie di Noè non era pura e quindi non c'è più però ripeto le cose più serie è numero uno uno stravolgimento del dato biblico numero due una eliminazione della responsabilità morale nel peccato originale di Eva è il numero tre l'assenza della figura del tentatore non c'è non c'è non c'è è il numero quattro anche queste modalità strane diciamo così di produzione dell'uomo e della donna attraverso questa figura che sinceramente io quale senso ci abbia collocarla insomma mi sembra completamente però anche qui qui bisogna cadere bisogna fare un passo indietro insomma perché ripetiamo insomma i disegni dell'altissimo sono misteriosi quindi questo è un pochino il quadro ho cercato in questa puntata di fare un po' una comparazione pacata ecco tra i vari dati che ci abbiamo a disposizione evidentemente per un cattolico la rivelazione per come sta non si tocca e per come la chiesa l'ha autorevolmente definita per quello che ha fatto rimanendo sempre ce lo siamo sempre detto nel suo stile sobrio che non entra nel merito perché non è sicura evidentemente ancora del merito che ci sia ritengo gli scritti di Maria Valtorta personalmente perfettamente compatibili con il dato rivelato di cui mostrano qualche dettaglio e peraltro anche molto compatibili con molti dati provenienti dalla tradizione patristica sia orientale che occidentale di fior di padri della chiesa come abbiamo visto nell'ultima puntata cercherò di proprio presentare proprio una rigorosa diciamo così spiegazione di questo che sto dicendo la genesi biblica di Don Guido si presenta come un completamento degli scritti di Maria Valtorta perché a quei tempi non si poteva ancora mettere l'ultimo tassello non c'erano ancora sufficienti reperti scientifici e così per quanto riguarda la Bibbia era impossibile esprimere quello che sarebbe stato detto in quei termini sì sì però non sembra che quanto detto dal signore a Don Guido sia in continuità con Maria Valtorta e per quanto certamente a quei tempi non si potevano usare termini tali da parlare di 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 cromosomi di gameti o di geni evidentemente però quella rivelazione appare veramente una uno stravolgimento insomma del dato biblico ha scritto altro è quello che è scritto e altro è quello che è stato siamo proprio a livelli abissali no ci sono tutte quante io ripeto spero tra qualche anno che le conoscenze sono proprio dite magari rileggo meglio ho capito male per carità tutto è possibile e dover dire ragazzi perdonatemi quel video che ho fatto perdonatemi in parte perché in quel momento la mia coscienza mi diceva questo però sulla base di comprensioni successive di tante altre cose ecco e possiamo tranquillamente dire che questo confratello ha visto in tutto bene e lo possiamo riabilitare al 100% io se potessi fare una cosa di questo genere sarei la persona più felice del mondo ma per riguardo ripeto a questo confratello al ministero che ha e anche alla vita santa che sembrava avere io rimango veramente senza parole nel senso dico ma queste cose questo c'è avuto le visioni se non vengono da Dio da dove vengono io non voglio che c'è qualcuno subito il diavolo veramente non sospendo il giudizio non so che cosa dire insomma però ho dovuto esternare evidentemente queste insormontabili riserve allo stato attuale sia da un punto di vista di coscienza che da un punto di vista di intelletto bene la prossima volta introdurremo invece il discorso di tenere amata perché perché riprendendo la tematica a mio avviso da acquisire che l'amore umano avrebbe dovuto sintonizzarsi sulle frequenze dell'amore virginale ma un amore virginale non come dire totalmente sul versante negativo come lo intendiamo adesso perché oggi la virginità è una negazione è un negarsi quasi tutto d'accordo perché il contatto oggi immaginate no cioè com'è possibile cioè che un uomo e una donna abbiano delle fusioni senza che si passi ad altro è praticamente impossibile una grande croce per esempio dei fidanzati che vogliono vivere castamente che ti dicono sempre ma fino a che punto posso arrivare dico guarda il punto è che appena parte la libidine ti devi fermare ma capite che può succedere che anche una stretta di mano ti faccia partire la libidine purtroppo io lo dico perché non è che me lo sto inventando lo dico perché lo so capite se una stretta di mano ti fa partire la libidine che dobbiamo fare arrivaci da solo se invece tu reggi pure un bacetto sulle labbra arrivaci da solo se ti puoi abbracciare quindi solo come gesto affettivo però capite è tutto quanto molto molto complicato molte di queste cose a mio avviso trovano spiegazione e luci in alcuni passaggi del libro di Teneramata con cui quindi vorrei concludere questo ciclo di catechesi quindi non so quante puntate ci saranno una, due, tre non lo so in attesa poi dell'ultima carrellata finale che farà un pochino una 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 sintesi di quanto venuto emergendo durante questa avventura insomma questa dovrebbe essere credo la ventottesima puntata quindi è stato abbastanza sono più di di sei mesi che stiamo appresso a questi a questi argomenti però sono belli e credo che sia interessante comunque affrontarli e e uscirne da qui che ci siamo fatti un'idea ecco poi le idee vanno tutte quante rispettate ecco anche se bisogna poi sempre saperle argomentare Dio vi benedica e la Madonna vi protegga alla prossima amici e amici grazie a tutti